Signori buongiorno, anzi buonasera, benvenuti, scusatemi un po' il capello matto qui sul lato ma non mi sono fatto una doccia perché i giocatori di Pokémon Veri non si fanno la doccia Non ho addosso il mio merch, perché lo devo... comprare il merch Ciao! Ciao a tutti, ho dormito poco perché ho dovuto accompagnare mio padre a fare una consegna, ogni tanto mi presto anche a queste attività che non sono, non riguardano i Pokémon Questo pomeriggio ho scritto un po' di video di Ultrasole, sono quasi alla fine di un video che durerà un'ora e mezza realisticamente Ho rivisto la clip in cui Rattata sconfiggi Necrozma ed è una delle cose più divertenti che io abbia mai fatto E la inserirò integralmente nel video probabilmente perché è troppo divertente e non voglio assolutamente darle credito Io ho planato anche un pochino di Lega di Radical Red ed è ovviamente un delirio, non ve lo so dire Per il resto, bene, per il resto tutto bene Allora, oggi quello che andremo a fare, ve lo dico fin da subito così almeno non mi cagate il cazzo E' abbozzare un planning per la Lega, che vuol dire non tanto planare per la Lega ma a renderci conto di, ufficialmente, di quali Pokémon voglio risparmiare al 100% E poi andremo a determinare a modi planning partendo dall'ultimo allenatore della Via Vittoria fino al primo Quali Pokémon ci servono per affrontarli, chi possiamo saccare serenamente e a che punto Quindi già ve lo dico da subito, grazie Elia intanto per il Prime No, non voglio perdere, grazie per il ventottesimo mese E io ve lo dico in anticipo, è realistico che oggi si cominci a giocare a Pokémon Come dite voi O meglio, si cominci a combattere effettivamente tipo dopo due ore Perché voglio fare un po' di cose Siamo arrivati al punto in cui bisogna, bisogna tryhardare, c'è poco da fare Ciao Frankie, ciao Tura, benvenuti a tutti ragazzi Allora io adesso vi faccio vedere una cosa Ovviamente ho dovuto fare una scena diversa per la Lega Perché dovremmo avere molta libertà di scrollare i vari team E stessa cosa vale per la Via Vittoria Quindi adesso io vi faccio vedere quello che state per vedere Farò un countdown E sicuramente riuscirete a lamentarvi di come è impostata la scena Perché la scena è questa Indovina cosa è piccolo e non si vede Il calcolatore Sì, però devo dire che esteticamente non mi dispiace Dai carina Grazie Terraghini per l'estilicesimo mese Il nostro Pizè anche A quanto è quotato il Ma crappo non puoi ingrandire il calcolatore Ora che i team sono colossali Perché ovviamente Da telefono non vedo il calcolatore appunto Eccoci qua Noi dovremmo muoverci così Questi qua sono i team da Lega Notate che sono un po' più di 5 Beh, perché sono più di 5 Ne affronteremo 5 ma ovviamente sarà un casino Sì, faremo così Noi planiamo Planiamo in generale Non voglio soffermarmi troppo ma Voglio Già farmi un'idea a livello di Lega Io in realtà ho già Ho barato Nel senso che questo pomeriggio Mi ci sono messo dietro E io credo Ad esempio Che Il Signor sia troppo forte Allora Il Signor è troppo buono È veramente eccezionale Su troppi Pokémon Fluttermane è davvero forte Anche contro il campione È proprio tosto Giocarlo a Soulvest contro il campione Potrebbe essere utile Il Signor è clamoroso In queste fight Contro Agatha Gestisce Estremamente bene Anche semplicemente Calyrex Shadow Quindi Tanta roba E fa molto bene Anche su Fluttermane Tutto sommato Se lo giochi a Soulvest Quindi penso che Il Signor sia un Pokémon Assolutamente Da preservare Zapdos è ottimo Contro Bruno Ti direi Che si gestisce Almeno due Pokémon Uno dei quali Probabilmente È Zazian Non sarà comunque semplice Ma sicuramente Possiamo trovargli Una quadra Probabilmente Fa abbastanza bene Anche su Medici Ammega Se lo scarfi Cosa che sicuramente Farai perché Hai Boltbeak E vuoi essere più veloce Di un po' di Pokémon Goldak Logicamente È un Pokémon In teoria Troppo buono Per queste due fight Ma Per quanto riguarda Le fight con lo relay Scopriremo una volta Entrati nella Lega Se affronteremo Il team Rain O il team Ale Inutile dire Che il team Ale È abbastanza Più Augurabile Ma sicuramente Questi tre Vanno portati Flotsel è un Pokémon Che ha un'utilità Immensa Perché impedisce Tutte le Stealth Rock Fondamentalmente In più Può far Bellissimi danni In generale Se entra Con uno Slow Volt Switch Slow Flip Turn Parting Shot U-Turn Di Incineroar U-Turn Di Urshifu Quello che vuoi Urshifu Un Pokémon Che fa bene In generale Contro i 150 Pokémon Contro cui fa bene Sì Agatha Ha due team Molto simili Ma in realtà Anche Lens Quindi Hanno Nettamente Diminuito Anzi Lentura Riguardo Lens Hanno nettamente Diminuito La varietà di team Quindi questa È una bella notizia Perché impedisce Le Stealth Abilità No perché Shot E passato Troverà sul Focus Hesh Grazie a Surging Strikes Sono regole particolari Per queste fight Allora Allora Lei è sotto Permanent Rain Ed è In realtà è sotto Permanent Primordial Sì Quindi mi sa che non Possiamo neanche fare Moste fuoco Grazie Genesect Ed è in doppio Alternativamente Per quanto riguarda La Hale Si tratta di Permanent Snow Sempre in doppio Bruno è sotto Misty Terrain Non so esattamente Perché Ok ma immagino Abbia senso Agatha è sotto Psychic Terrain E va bene Non potremo giocare Le priority Per quanto riguarda Lens La condition È che non potremo Rimuovere le Hazards E se è vero Che riusciremo A impedire Ugly Mora Di settare Le Stealth Troc Con sempre Con Floatzel È anche vero Che attiveremo Sempre a prescindere Non credo Che ci siano Modi Per evitarlo Etoxic Debris Quindi sarà Particolare Grazie mille Tony Ghiai È quello che ho letteralmente Detto Grazie Cosa cambia Tra Lens 1 e 2 In realtà Apparentemente Nulla C'è una mossa Diversa Di Glimmora Vedo Cambia molto poco Ci sono semplicemente Delle piccole Variazioni Di moveset Peraltro In questo caso Solo una E non credo Che sia rilevante Per quanto riguarda Invece il campione Noi andremo ad affrontare Il team Con Primordial Kyogre E quello di Bulbasaur Ah forse cambia Qualche oggetto Sì Dragonite Half-Lynium E qua una LAM Sì cambiano Una mossa E un oggetto Immagino che la stessa Cosa avvenga Con Agatha Che cambi Qualche mossa Dream Punch Expanding Stone Edge Bull Cup Musical Psyshock Moon Blast Shadow Ball Qua cambia l'ordine Forse Oblivion Dark Hole Heat Wave U-Turn Celebrate Che non mi ricordo Cosa faceva Expanding Pyroball Focus Blast Nasty Protas Transparenting Training Sì allora Da quello che vedo È molto diminuito L'impatto Dei team Diversi Lo era già In realtà Cioè È uno schema Che si proponeva Già secondo me Nella Normal mode Che avevo giocato Che avevo finito Tempo fa Ossia che I primi Super 4 E' uno team Nettamente diversi Gli altri Cambiavano Alcune cose Però è stato Ancora più Accentuato Questo Banalmente dal fatto Che sapremo Una volta entrati Alla Lega Il team Di Lorelei Ovviamente Potremmo anche Soft reset Per avere il team Che vogliamo Cioè Il team Ale Credo che però Sarebbe un po' Contro Lo spirito Quindi Alla fine Della fiera Sarà quel che sarà Per quanto riguarda Il quinto membro Io credo che Fluttermane Faccia molto bene Intanto se becchiamo Il team Rain Probabilmente È un Un buon Pokémon Con cui startare Perché ha un'ottima Difesa speciale E non beta Fake out Quindi possiamo Plannare meglio E Fa tantissimi danni A Palkia E fa ottimi danni A Dragonite Non credo che ne faccia Troppi aggiorni Vedremo un po' Da farsi Forse con In the power Grass Shot as one Per me Non credo In realtà In più Fluttermane Fa benino Anche Direi Non molto Contro Bruno A meno che Non entri In free switch Su alcune cose Ma Qui in generale Tutti i Pokémon Di Bruno Sono più veloci Di Fluttermane No Non l'ho catturato Ovviamente In caso Hai in mente Alternative Vedrò un po' Da farsi Ma Fluttermane Aspetto anche Di vedere Se becchiamo Il team Che team Becchiamo Di Lorelei Poi ci ragioniamo Per bene Immagino Che Fluttermane Faccia ok Magari A determinate Condizioni Switch in Su Medicham Non è Incredibile In generale Qui è pieno Ogni Pokémon Gli fa degli Super efficaci O fisici Lo distruggono E È Discretino Ma non Incredibile Contro Agatham Forse può fare Qualcosa di interessante Su Victini È Particolarmente Buono Probabilmente Su Lens Ed è Secondo me Molto Buono Sul rivale Nel senso che È un'ottima risposta Walking Wake Contra In inchiesta Si può curare Se hai un Assault Forse riesci anche a Tancare qualche Pokémon Insomma Ci siamo Oblim Porco Dio Sì ovviamente Sì Come ho detto Già tre volte Nell'arco Di dieci minuti Di live Ci sarà un NPC Dentro la Lega Pokémon Che ti dirà Il team di Lorelei L'ho detto Veramente tre volte Però in dieci minuti Di live E l'ultima volta È stata un minuto fa Potete tipo Seguire la stream Vi prego Grazie Non mi fate ripetere Le cose cinquanta volte Ora Detto questo Credo che questi Cinque Pokémon Siano da preservare Anche Urshifu Probabilmente Se becchiamo Il team Ale Di Lorelei Può aver senso Giocare una lead Fluttermane E C.U. Che dobbiamo ancora catturare In caso Non fosse Il team Ale Credo Che Incineroar Sia un Pokémon Migliore di C.U. Ma Fluttermane Credo che sia Sempre un Pokémon Che ha senso portare In questa Lega Perché è un folletto Ha senso portarlo In questa Lega Detto questo In realtà Aspetterò a catturarlo E vedremo La Lega Sai che vorreste Schiudere Probabilmente Dipende molto Dalle catture Che faccio in giro Credo che Primarina Sia un'ottima pick Onestamente Per la Lega Mi sembra Che possa fare Estremamente bene Contro Un po' Di soluzioni Di Agatha Banalmente Forse Su Mewtwo È una bella Soluzione Primarina Realisticamente Un po' Anche su Victini E sarebbe Una buona Alternativa A Fluttermane Quindi la risposta È probabilmente Anche considerato Quante Close Ho uno Starter Ma Vedremo 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 Intanto Noi ci occupiamo In primis Degli allenatori In via vittoria Lasciate perdere Questo allenatore qua L'Indigo Plato Creator È un meme Dobbiamo partire da questo Perché partiamo Da quello più in fondo Perché in questo modo Possiamo iniziare a capire Quali Pokémon Possiamo sacrificare E quando Soprattutto Per non perderci La La Per non perderci Potenziali Call Quindi Iniziamo a ragionare Magari non in maniera Super specifica Ma iniziamo a ragionare Victory Road Ace Trainer Ray And Ace Trainer Tyran Che giocano Un Sì esatto È un Trick Room Team Che è Un bel po' Fastidioso Allora io Vabbè I Pokémon Tanto da Lega Li conosco Ovviamente Cercherò di evitare Il più possibile Di giocarli A meno che non siano Nettamente migliori Assolutamente Safe Allora Scrafted Armani Danzen Allora il problema È che c'è un Runerigus Che ha Shadow Shield Che è come Multi Scale Quindi Io credo che Ho già fatto dei calcoli Su questi Io credo Che Si potrebbe One shot Tutta l'out Di destra Lasciando Scrafty Abbastanza In Tonso Allora Probabilmente L'idea migliore È liddare Con Un fake Outer Più veloce Di Scrafty Credo che Tinkaton Sia l'ideale E E Probabilmente Un tipo Spettro O neanche Volendo Scrafty Mette Intimidate Sia l'idea Che vi ti intimidano Molbreaker È irrilevante Un dettaglio Che valuteremo In seguito Non sono Back to back Vero No Non sono Back to back Sono semplicemente Questa in doppio Allora Darmanitan Start In forma Zen Giusto È questo qua Psyche Fox West Flamethrower Trick Room Gelli che tira Sprout a nastro Eh ma Vicavolt Quello che vedo è che se ci trovassimo con Vicavolt e Cooperagia potremmo addirittura fare solo con Marowak Siamo sicuri di voler killare Secondo me Se riuscissimo a tenere Scrafty in campo sarebbe l'ideale Io vedo un pattern per cui Tinkaton fake out Darmanitan Zen Meno che non riuscissimo a prendere la kill Perché c'è intimidate Altrimenti Marowak Load speed Avere che questi qua sono tutti a 0 IV Marowak load speed Rebbe lo killerebbe Ma ovviamente non sotto intimidate E poi il turno dopo Puoi fare anchor su Scrafty Guadagni un turno Nel turno in cui killi Darmanitan Fai anchor Il turno dopo Scrafty Switch E tu però se entra in un Erigus Cosa che realisticamente succede Se entra Vicavolt Dovrebbe Credo Sicuramente non lì di Marowak Probabilmente tu vuoi lidare Con un altro Pokémon A caso C'è un schifo Realisticamente vuoi lidare Con un altro spettro Allora Ma anche insomma Per fare U-Turn Senza voler killare Darmanitan Un secondo ma Ci riesce almeno Zorark Zorark Sicuramente è più veloce È sotto Illusion Sai cosa C'è la possibilità che Scrafty Veda la kill e vada di knock off Probabilmente ha senso startare Con un Pokémon che baiti sicuro Fake out Quindi che non prenda la kill Mandi Marowak su quella slot Dobbiamo assicurarci che Tinkaton Vediamo studio una opening Tinkaton è intimidito 4,6 di danno Da Darmanitan Cioè contro Darmanitan Fa 4,6 Poi entra Marowak Allora da quando ho capito Dovremmo avere accesso A Poltergeist Quindi Marowak Con Poltergeist Outspeed Perché outspeed Credo che outspeedi tutti i Pokémon E con il Tink Club Shoterebbe Gozo Quello che tu vai a fare Nel mentre Quello che succede È che lui turno 1 Metti un Pokémon a caso Chiunque Amongoose Lui fa fake out Io faccio fake out Su Darmanitan Lo chip Non mi serve Ci parlo Bisogna essere onesti Però Secondo me Poltergeist Non è 100% a cura In sto gioco Non è 100% a cura Fammi cercare Vabbè Ogni volta Mi ricordo Che tanto Ah è una 90 Allora magari no E Adamant 92 Quindi Tinkathon Dovrebbe fare di più Beh però se lo gioco Ho un tempo Tinkathon Non prende Intimidate Di fake out Dovrebbe fare Quello che fa No? Basterebbe Shadowbone Minroll di fake out È 22 Quindi lui andrebbe A 277 E con Marowak Bone Adamant Il minroll È 276 Ho pescato Dovrebbe Minroll Assolutamente Improbabile Se vedete Il fake out So mongous Come fare No Allora Bruce Non hai capito Fatemi ragionare A me Che ho ragione Ehm Poi turno 2 Siccome è Fai anchor Su Scraft Così guadagno Un altro turno Marowak Adamant Contro Runerigus 85 Quindi noi nel turno In cui Scrafty switch Ah no Non sono A meno 1 Ah no Tinkathon A meno 1 Non sono A meno 1 Svegliatevi Però non riuscite a seguire I miei plan Sono troppo veloce di testa Purtroppo Svegliate Non siamo A meno 1 Tinkathon A un tempo E Marowak Entra a turno 2 Non dia Fate proprio Ehm La barita di Marowak Non è un problema No Muore Quello che succede Turno 2 E che con Tinkathon Mentre Scrafty Switch A o tira Fake out A caso Perché l'hai Ancorato Tu vai a rompere Lo shadow shield Di Runerigus Se entra Vicavolt Non è un problema No Marowak Semplicemente Lo shotta Di Firepunch Nice Se entrasse Se entrasse di Runerigus Tu vai a doppiarlo Lo killi Scrafty Switch A quel punto Sei con Vika Con Tinkathon E Marowak Davanti a Vika Volt Che viene giù In un colpo E davanti a Dragalge Che è un po' Rognoso Perché se entra Copperajah Marowak Non fa un cazzo Comunque Non abbastanza Se entra Dragalge Potrebbe essere Un po' Un disastrino Ma in realtà Potremmo anche Rischiarci il crit Voglio dire L'ultima lotta Prima della Lega Certo Ci saranno Dei mini boss Quindi Meno Pokémon Perdiamo Comunque Meglio è Però possiamo Prenderci dei rischi Secondo me Perché Tinka Deve per forza Fare lì Sul Runerigus Altrimenti C'è Le scaglie Cioè C'è Multisquame Quindi è un casino Va bene Credo di poter fare Wait Posso fare tranquillamente Detect Con Marowak Parafulmine Attira anche Le mosse Verso Marowak Elettro Giusto Quindi se vando in campo Un Pokémon Debole All'Elettro Sono nel chill Lui ha Sludge Wave Flamethrower Dracobarrage Scald Basterebbe trovare Un quarto vlog O anche Tanka Queste robe qua Marowak Farebbe Detect Serenamente Grazie Bruno Fabrizio Per il Prime Benvenuto Stavo pensando Anch'io Che l'Hotzer Water Absorb Potrebbe Entrare Però su Tinkaton Quindi Entrarebbe Sul Lanciafiamme Certo è che Su Tinkaton Non arriva Dracobarrage Il turno dopo Eh però Tu dovresti entrare Con un Pokémon Che mi tiene fermo Dragalgio Il turno dopo Quindi immagino Tipo Un Insinero Assault Best Per dirne uno Anche se Materiale da Lega Ma In teoria È un ingresso Tranquillo Perché se è vero Che l'Elettro Comunque andrebbero Su Marowak Vuol dire che Entri Sei al L'85 Con Assault Vest Careful Da Dragalge Prendi Questo danno Anche meno Da Dragalge Prendi un danno Ridicolo E da Vikavolt Di Bagbaz Prenderesti il giusto Ma realisticamente Potrebbe anche arrivare Un 35 E un 31 Succedere proprio Il disastro Per perdere Insinero Forse anche Dugong Sì Quello che però Dugong non fa È tenere fermo Dragalgio Un turno Perché Il concetto È che Io proteggo Marowak Faccio switch out Di Tinkaton Il turno dopo Io faccio Fake out Dragalge Kilo Vika Volt E poi davanti A Dragalge Faccio Doppio switch E mi gioco L'1v2 Quindi sarebbe Per dire Davanti a Dragalge Sarebbe Dugong Però ho bisogno Di un Pokémon Che lo tenga fermo Quindi di un fake outer Fondamentalmente Dugong con Ice Scales Sarebbe eccellente Tancherebbe da Dio Nel mentre Che io switch Qua non ho ancora Pensato alla lead Ma ovviamente Cioè La lead Può essere Ironicamente Lo stesso Insinero Ah merda Dugong ha Fake out Bravi Giusto Me l'ho dimenticato Quindi sarebbe Un sac Decisamente Sarebbe Un rischio Meno Spaventoso Di Inse Sino Nettamente Certo Assolutamente Superiore Scusate Mi l'ho dimenticato Dova fake out Prendi tanto Danno Da Vika Volta Ma se le mostra Lettri Attire cose No no Sì sì Insi fuori Insi fuori Dugong Il primo Me l'ho dimenticato Che Dugong ha Fake out Dugong È in lead Questi tre qua In teoria Dorebbero essere In grado Di gestire Più o meno La situazione Poi chiaramente Davanti a Dragalge Dove fare Fake out Sulla slot Di Dragalge Con Dugong È killare Coso Poi hai Solo uno Switch da fare Dugong può fare Ice Beam Vi ha Poison bar Va bene Ice Beam 55 Switch dentro Snorlax Gestisci E quando arriva Cooper Aja Grazie Tu riesce Per l'abbonamento Secondo mese Benvenuto Ricordo Il gruppo Dascurt Sì Cooper Aja È un po' Fastidioso In effetti È un po' Un assassino Penso che possa Rientrare Marowak In teoria È full vita Dovrebbe fare Abbastanza bene Più un altro Credo che Delfox Abbia un buon Ingresso Insomma Double Iron Bash Lo treta Oh sì Per Cooper Aja Può essere Può bastare Marowak Da solo Blim Il concetto È ovviamente Che Di fianco C'è un Pokémon Che muore O Turtonator Turtonator È già un'idea Più sensata Però Probabilmente È l'idea migliore Che abbiamo Sì Close Combat Turtonator Battle Armor La tankerebbe E poi sarebbe Più veloce Sì E farebbe Flame Allora Ok Questi 5 Pokémon Qua Cerchiamo di Tenerli vivi Per questa battaglia In doppio Ricordiamo Soprattutto Per questa battaglia In doppio Perché la battaglia In doppio È ovviamente Più tossica Ovnang Grazie per il 17esimo Mese Ciao Crabbo Nonostante Io ti adoro Devi sapere Ogni volta Che mia madre Ti senti Sì È troppo acuta Mi dispiace Signora Però Però Sono forte A giocare A Pokémon Se non hai La voce Acuta Non sai Giocare A Pokémon Questa cosa Potrebbe Non avere Fondamenta Vuoi andarti Questa battaglia In doppio Era da fare Come 25 morti Su schermo Sono scritti 24 È un errore Non ho aggiunto Fra alligator Comunque in ultraluna Luna Ne ho fatto Di tipo 29 Vediamo se Riusciamo Allora Fai Della Un team Un team Un team Completamente Diverso Ok Mi sa che sono Un po' Messi male Nelle preview Ok Il fable Dorebbe essere Distrutto Da team Caton Che vabbè Finisce lì Ma C'è Va a fare Un'altra fight Ma Dorebbe essere Proprio serena Vedo ragioni Però non serve Nemmeno Fake out Potrebbe giocare Occaberry In caso Dovesse Rientrare Direi Che in Generale C'è Iron Threads Realisticamente Potrebbe Switcharli Dentro Va bene No In realtà Mi segno Mi segno Su un foglio I pokemon Che voglio portare Nelle singole Fight Se no Io Excel Non lo uso Io sono Molto più Stronzo C'ho I fogli Di merda Allora Lotta 7 Segnati Semplicemente I pokemon Che vuoi portare Quindi Diugong Così sappiamo Cosa rischiare Cosa no Tinkaton Marowak Snorlax Turtonator E il quinto Secondo me È abbastanza Ornamentale No Per quanto riguarda La lotta 6 Ho scritto L'atta 6 Per quanto riguarda La lotta 6 Jelicent Non ha nulla Don Dozo Marowak È safe Su qualcuno Di specifico È incredibile Su Inferno Marowak Credo Tokyo Don Dozo Jelicent Voglio capire Se lo annulla Ma credo Di sì Anche se Ha IQ A Toxic Bodypress Liquidation E Q Scusami Among Us No Veno che Among Us È segnato tra quelli da Lega Ma Per quanto ho visto La Lega Non mi sembra Incredibile Sì Among Us Non è nulla Meglio ancora Con Giga Drain Recupera Tutta la vita Va bene Ok Don Dozo Assolutamente Among Us È più che safe Sicuramente Among Us Probabilmente Tinkaton Su Clefable Ma Il problema Di Tinkaton Su Clefable È che su Gigaton Hammer Può switchare Iron Threads Però non credo Di aver Call migliori No Per killarlo Nel senso Dodrio Delle Sevi Può prendere Una key Di Flare Blitz Forse Si Sai Choice Bella Probabilmente È una buona Entrata Perché Con Headlong Rush E le solite Sue cazzo Di mosse Legge Dei danni Mai visti Dovrebbe essere Anche Se dovrebbe Tenere fermo Anche Don Dozo Annulla Mew È più veloce Immagino Vada bene Ok Minuscia Non entra Mai Iron Threads Non entra Mai Inferno Vuole entrare Sbeccherebbe Ti direi Headlong Rush Va uno Di vita Si Dodrio È un opening Probabilmente Migliore di Tinkaton Per il semplice Fatto che Scongiura Gli Switch Io ti direi Dodrio Una lotta 26 ce lo mettiamo Su Inferno E più Credo che Maruakalola Sia di un safe Mai visto E soprattutto Ma con Su altri Anche Del Fox Potrebbe andarci Però Maruakalola Bonemeranga Il blaster Non è che Faccia poco Lui ha Nasty plot Vabbè Se io fossi Careful Leggo anche Crit A più due Maruak Dovrebbe essere Abbastanza Safe Penso che Lo preferiresti Ad altri Se in frame Mi sei dopo Quanto fa di fuoco Bomba L'hai appena scoperto Maruak Te lo porti Dietro Ehm Mi è in show Con l'i4 Rigenerator E rognosetto In effetti Ehm Mew Mew con dragodanza Che gli dice Di Demonstration Psego Che Dove Ha Goli Deporto Era buono Credo che Slowbro Sia Ok Vero Slowbro Con la Slowbro Neat vabbè essere abbastanza in grado di gestire la situazione relax mega slow bro hai sempre il solito fa all play fa 40 what the fuck così poco interessante beh effettivamente mio ha un sacco di difesa fisica make sense non scold perchè se lo burn lui ha synchronize si stavo pensando anch'io a sabdos per mia insiao eeeh slow bro su mu è molto interessante però se mi inizia a setupare diventa un problema perchè poi di knock off a più 6 te lo becchi il 70% eh si vero che non fa mai in tempo realisticamente ad andare a più 6 no? però se entri su knock off cosa possibile tu sei a 70% con foul play fai quel danno lì vediamo se iron threads wall rain effettivamente è un'ottima call però non mi sembra di avere robe migliori di slow bro su mu corretto? quanto cazzo veloce iron threads sporco 2 fur coat relaxed surf killiamo? no eh si però siamo tranquilli eeeh quindi si wall rain lo vuoi portare al 100% in questa fight wall rain lo vuoi portare eh golisopo drag era tanta roba slow bro beh non credo di avere robe migliori di slow bro golisopo ce lo siamo giocati sarebbe bello riuscire a a rollare a trovare due hit che io vediamo se shadow ball da mega ah tanto ho anche le leftovers quindi in realtà servirebbe un po' di più si si su mu non è più safe di di slow bro ah sai cosa con foul play possiamo sfruttare bravi certo con foul play possiamo sfruttare i suoi boost non li avevo calcolati ovvio si allora vuoi slow bro su mio tutta la vita prima che lui vada più sai muore slow bro e senti sul mio in show secondo me a sabdos non vedo è un rischio da lega cioè un po' come un da lega scusatemi non ho parlato proprio male però però sabdos è ottimo cioè sabdos scarf dovrebbe sempre essere oddio mi ha già quant'anni velocità senti su no cough se entri su no cough cosa interessante è che dodrio lo killa e lo outspeed credo se lo fai eh no perchè più speed lui giustamente eh ma sabdos itemless non lo outspeed questo significa che lui può andare a fare un po' di u-turn e di cross combat ne pesca di danni eh vabbè ovviamente non impi starebbe bold in questo caso con air slash kill però non lo outspeed mai lo outspeed resti con la cia di scarf ma si testa toglie sia un puntagavo eh quello che succede è che eh non è che eccessivo sabdos scar fraga è che ce la toglie con no cough quello che succede è che tu potresti voler spammare un po' rust ma a certe condizioni finisci in merda no intanto quel simpatico malfestio grazie per il tredicesimo mese a me grazie per il quindicesimo mese off nang eh grazie per il tredicesimo mese ma ho già ringraziato quindi va fa scombat immagino che turtonator non sia tremendo è anche incredibile sabdos static si beh non mi sembra una cola qui a fidarci fengu grazie per il primo mese scusami scusami frate sono stanco grazie per l'abbonamento regalato a blim ho letto il livello 1 per un mese ho fatto fengu si è abbonato da tipo l'anteguerra ottima gag ehm si 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 sabdos ok segnalo intanto poi vediamo di arrangiarci vai ok quindi sabdos dovrebbe entrare nella sesta fight un po' palloso ma immagino che si possa valutare un sac di dodrio alla peggio fungo prende massimo 40% a close combat e poi il fungo c'è già quindi si poi ragioniamo va bene fa vedere invece quest'altro ho questo l'idda con arcanine con teleport wow allora qua giochi flotzel tutta la vita si sono messi a casa io spero che sia l'ordine giusto quello del documento e non quello del calcolatore ma dovrebbe essere oh direi che flotzel è il pokemon più sensato con cui startare sta fight ovviamente poi è da preservare ma surging strike technician fanno il danno chi fanno un bel po' di revenge kill aggiungerei eeeh se trovo qua scusami grass psychic quindi per dire i damn power bug evita lo switch abbastanza sicuro perché è così poco danno tanca così tanto grass psychic iron leaves io sono con i damn power sotto technician a 90 con le otter beh effettivamente abbiamo pochi messo intimidate è fondamentale se critiamo ogni hit di surging eh si fondamentale troppo importante non so se lo lega la aia questo potrebbe essere interessante eh si eeeh vi mangio anche graplock regga surging si nei calcoli conterebbe almeno uno perché probabilmente non legge il critico di surging in questo senso è una consensata non so se la yalo legge onestamente perché alternativamente sarebbe un bel porognoso arcana in comunque ti direi che cioè il concetto probabilmente è che se manda qualcun altro ci muore e glielo kill a me sta bene flotz lo auspita tutti qua no si 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 oh non riesce a killare iron leaves a meno che tu non sia life allora a quel punto cambierebbero un po' di cose se dovremmo trovare una mossa che faccia danno a a a mi ricordo anche come si chiama guarda merda a lui ma tipo area lace non prende oh mamma mia giusto robo anche b first non cosa come lo giocherò però interessante non ha una singola mossa per colpire un pokemon come graplocked interessante avrebbe senso mettere hidden power flying fregandocene un po' di iron leaves probabilmente si anche perché iron leaves vabbè tanto quel robot anche un po' a prescindere però se lo attacchi con una fisica fai più danno no price fang va oltre technician spange evidentemente anche faricutter non credo che sia abbastanza peraltro miss faricutter wow ok nemmeno radical red è riuscito a rendere buona con la mossa vabbè fanculo mi ma mi se ti fai la informe non entra mai graplocked eh o no ok d'accordo però iron leaves potrebbe entrare e se lia non legge il mio meno uno ipotizzo nel caso in cui legga il mio meno uno e non legga il credito scusate mi sono espresso male il blade di iron leaves fa 320% comunque questo è interessante vabbè senti segna floatzel intanto intanto floatzel lo vuoi sempre risparmiare quindi è la peggio poi lo cambi direi che jellicent lo impieghiamo su graplocked mi sembra abbastanza un coglione graplocked sta merda technician interessante l'unica mossa che hit sarebbe jellicent non c'è technician ok non lo calcolo neanche jellicent è indubbiamente top che altro credo che su mccalola possa fare abbastanza bene garganacol item last logicamente lo domina con il q che abbiamo ottenuto il q non mi ricordo però si garganacol è anche spendibile secondo me in caso garganacol quel non vuoi impiegare tinkaton secondo me perché no perché tinkaton è un po' è un po' fondamentale per la lotta dopo se possiamo evitare sarebbe l'ideale è pur vero che non è che veda molte non credo che claude quanto ha dire il tacco speciale 160 con l'alzare di earth power ci muore adesso avvene tutto fatica in un poco su quanto veloce hai non lives delfox lo speederebbe il sbaglio è letteralmente all'inter ma noi tra l'altro la scopla di ocan si delfox è in speed tie perfetto ma che danno fa iron leaves che danno fa iron leaves dio buono di 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 crit ratio ah perché c'ha wow perché ah sharpness ok ok a sharpness make sense allora perché sennò delfox potrebbe essere buono a parte che si guano un kill delfox ma fai fai vedere gli altri eeeh 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 probabilmente Snorlax è da portare qui eeeh vero ti direi anche che ah Misty Explosion prendi delle fucilate importanti ma se sei assault vest e se sei careful va anche bene fai heavy slam dovresti shottare ok sì credo che Snorlax sia troppo importante qui però allora Snorlax potrebbe addirittura gestirsi anche Miss Magius però io mi ragionerei comunque una call alternativa o alla peggio un sack sì raga la chat qui sotto era in ritardo scusate perché l'ho messa sotto c'è anche da dire sì esatto che nel caso se se saccassi qualcosa Floatzel prenderebbe kill un po' ovunque quindi suppongo che sia qua qua ci potremmo giocare un sack tranquillo qua ti porti comunque Snorlax e magari ti porti due potenziali sack quindi Garganacol anche volendo Tauros se per ora mi segno questi quattro fondamentali per sta fight e in realtà Dreadnought è molto buono su Arcanine credo e quindi Dreadnought segno lo scuola potrebbe essere se Arcanine dovesse switchare per qualche ragione più può essere volendo una call che va a sostituire Garganacol se volendo Garganacol prende heavy slam vero ha un modo per caso kill lo prende heavy slam non lo ricordo forse mi confondo con Hammer no ce l'ha heavy slam quindi in realtà tipo volendo Garganacol potrebbe andare su misma e Dreadnought potrebbe andare anche su Macalola probabilmente anche make evolver gli nel muso va bene vedi lotta 4 lotta 4 per ora poche ripetizioni quindi ok se fai domanda è che garantita no ma vediamo adesso regano non sto fare il plan preciso spaccato se no altrimenti non finiamo più non ha nemmeno se wow bene è uno Zoroark momento questo no lui fa per forza aiuto Zoroark no no a scrappi scusate sono un coglione grazie Darkblood per il prime a scrappi si no scusatemi mi sono mi ho pippato qualcosa del genere immagino non mi è molto fastidioso sto pensando anch'io mega slow bro in lead sarebbe ok o anche mega dreadnought sarebbe spendibile mega dreadnought cioè voglio dire se per l'otto dopo troviamo sicuramente qualcos'altro mega dreadnought è tanto buono contro lui generico joe lock codiaz chiedi close combat chi se prendi danni turno 1 contro cospito che posso fare ah perché tu dici turno 1 si legge solo si legge ancora limber ma ha senso ha senso si prima che lo pagna molto veloce c'è anche più di zoro non abbiamo banalmente un modo per shottarlo con un con un pokemon scarfato cioè quanto ha di difesa a fila 94 non è poco vabbè fammi vedere il resto qui per dance sleep powder qui dobbiamo giocare un po' con con i googles con i googles voglio dire turtonator dovrebbe essere inciabate su bellosome fa parte del plan per la sesta fight ma è la parte finale un modulo troviamo se dovesse succedergli qualcosa ma direi che non l'ho mai visto un po' con così safe clorofilla se lui fa quiver va più uno di special defense più uno di special atta che più uno di speed che è ok perché anche se c'è più 6 sul lungo terzo si odio lui che aumenta la difesa fastidioso però immagino che comunque tutto turtonator prendeva clear smog o sbaglio no smog e basta peccato ci ho sperato ci spero ancora no ma turtonator dovrebbe essere ok può anche adottarlo turton night crash si anche comunque in generale ottimo pure clorofilla una guerra anche sì perché no comunque ti direi che turtonator va più che bene clodsire mi sembra oh cazzo in quale si mi si era sage power interessante in realtà in teoria marowak di alola lo vola con una salt vest non dovrebbe mai rischiare c'è a dire che poi quel semistere switcherà più volte perché quando si troverà loccato finisce male vogliamo bene anche morpeco ma assolutamente sì però aspettate aurawill diventava buio no la mossa di morpeco come cazzo funzionava quella merda soprattutto come funziona su radical red eh diventa di tipo buio no quello è un po' un disastro allora cambia ogni turno capisco in realtà avendo detect marowak possiamo gestirlo no certo se marowak ha salt vest mi dirai forse no mi dirai in realtà si mi serve può essere gestito anche da Delfox Delfox non è ancora entrato in nessuna fight vero? non si direbbe Delfox su Simister dovrebbe essere easy no? scusate circa non mi ricordo se Delfox aveva qualche cosa per hittarlo ma immagino che lo prenda Power Jam studiata no? no prende Scorching però bravo vuole neanche Foul Play in caso sarà 50% teoria si Delfox dovrebbe essere easy GG su Simister Delfox e Leftovers faresti Turtonator Delfox com'è che funziona Hunger Switch? lui il primo turno è elettro quindi se io il primo turno entro con Marowak che poi quando cambia tipo faccio individua sono sempre safe giusto? come può andare male lui il primo turno è sempre elettro quindi io entro sempre con Marowak e poi dopo faccio detect insegna anche Marowak per sta fight Marowak come al solito entra in 3000 fight ma in teoria entra in dei contesti così tanto safe Marowak con questa abilità passa a motivo pancia piena motivo pancia vuota alla fine di ogni turno il tipo della monstra ruota tavola diviene elettro quando Marowak si trova in motivo pancia piena e buio quando si trova in motivo pancia vuota se il pancia pieno è l'alterno di Morpeco viene negato se tutto il tempo poi rimane la sua forma attuale se un po' con diverso da Morpeco tiene questa abilità con trasformazione da sodio cambia la forma se il primo turno lui è sempre elettro è la cosa fondamentale quindi ho col facile su Bellosom col facile su Simisear col facile su Morpeco Latias è una roba ma credo che Dugong qua abbia debba scendere in campo no non ho ancora giocato l'assault vest giusto ok Dugong è safe la cosa un po' fastidiosa di Dugong è che se lo inizia a giocare Calm Mind tu inizia a piangere un po' però immagino che anche solo un Never Melt I sarà lungo dovrebbe aiutare Sajok fa danni sulla difesa fisica sì beh ma difesa più lui ha il Dragonium la V l'avevi pensata per Marwak sì ma poi Marwak lo cestina a Sumorpeco di certo non gioco a V direi il typing non cambia sì no il typing della mossa dico sì allora diciamo che se a più uno questo facesse la zeta di Draco Barrage sarebbe abbastanza noioso sì anche Insi il problema di Insi è che posso evitare evito andiamo gli altri quanto rischia di Incineroar questo qua è il rischio più di Dugong a sto punto però il vantaggio di Incineroar è che probabilmente se la cava in due hit tra i sensedolo Assault Vest a Dugong sono tranquillo stira la zeta più uno io si muore di crit probabilmente preferisci Dugong Assault questo tipo no in quale universo non preferisci Dugong Assault vest qua primo turno se lui ha più uno di zeta prendi un 40% e non mi son fatto nemmeno calm o careful o sassi vabbè adesso non ci siamo capiti e tu con Ice Beam dovresti essere in grado con calma con pazienza di tirarlo giù anche veramente con Ice Beam potrei fare Mystical Fire si Mystical Fire sarebbe un po' rognosa Dugong non ha delle mosse fisiche perché ironicamente attacca probabilmente ci può quasi convenire si guarda il shard ovviamente le mosse ghiaccio fisica non si conspirti prego capisco questa roba avrebbe anche Angle anche Disable Tinka play rough gli fa 70% non lo kill e lui ti tritta contro Cobarrage che ditta anche i folletti direi che Dugong deve entrare anche in questa raga mi piace parecchio Dugong mi manca una gol su staccataca e una su e una su lo panni mega staccataca io credo mamma mia che difesa madre di dio che mostro jelly sand dovrebbe essere tranquillo no e non l'ho ancora portato da nessuna parte no beh si l'ho portato nella fight dopo contro grab lock più safe di lui non esiste il problema è che questo qua c'ha un assault vest quindi assist surf e due hit il lato positivo è l'out speed invece sei water bubble in questo d'abbia stare attenti alle abilità low kick di qua acqua valla ah anche probabilmente ci ci impiega un po' come in più e va bene si lui non ne fa bocchi di danni ma low kick di quaco valla shot sempre probabilmente puoi portarlo lui farebbe di body press se la fa 51 ma tu volendo puoi farti in pitch leftovers e in questo modo sei safe anche per un try 2 si ottima idea qua qua va il bravi andava benissimo anche gelli sent ma almeno impieghiamo un pokemon in più senti per lo panni che cazzo mi invento invece perché ha scrap quindi tagli spettro io credo che un mega slow bro in lead poi rappresenti sempre uno switch in shabat però non sottolta l'attacco fisico di sto robo però è un 31 cioè se sono relaxed posso quasi sempre tirare slack off e riprendere vita un uno fra u turn ed è un po' rognoso ma poi hai psychic c'è una certa muore questo psychic non kill interessante ma come fa slow bro a perderlo sto matchup non non turno 1 ti resla cough poi ti giochi il tuo game e quando rientri si diciamo che se lui inizia a fare lo u turn momento sarebbe un po' fastidioso però direi che slow bro ci colpisce nel caso di rischiare un po' con che mi serve per la fight dopo se posso vietà è vero che è anche slow però slow è più safe mi dispiace brumante ma la sfida richiede questo rigenerator o shell armor no sempre shell armor sempre shell armor qui possibile faccia u-turn in turn in setup si ma infatti turno 1 sono bastato convinto che faccio u-turn ma io lo sfrutto per tipo tirare ice beam su latias anch'io sono convinto o comunque per tirare ice beam generico è una buona pick c'è una buona idea è la rogna e se lui continua a tirare u-turn a muzzo mettendoci contro dei pokemon contro qui slow bro non può fare slack off in quel caso immagino che se proprio 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 dovesse succedere andassi proprio 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 in difficoltà oh non sa chi qua qua va per rientrare safe secondo me è sempre l'ideale è sempre oddio in realtà potremmo anche usare regenerator in effetti potrei eh con rigenerator sarei più tranquillo tanto u-turn più che altro sugli u-turn rischierei un po' i crit ma sono danni talmente bassi che probabilmente io recupero sempre con rigenerator corretto vi ricordo che megaslubro può avere rigenerator cioè fine crit di utero sarebbe 32 39 con rigenerator prendi 33 vai praticamente a full vita probabilmente si rigenerata l'idea migliore comunque questi qua sono i po' con da portare in lotta 4 lotta 3 vedete quest'altro oh cazzo la focus esce ah merda qua si gioca le stealth che cazzo ti inventi questa pure explosion quanto ha di speed 70 che minchia fai questo è un po' un casino questo è un po' un casino questo è molto fastidioso razzleband kill non credo ci provo ma questo ha 103 di feta fisica no direi che non kill wow beh oddio technician non ci va lontessimissima ok non vedo marocca è morto no dove è marocca ah si è di qua eh perché fa parte dei pokemon della fight finale che per ricordarmi quali sono specie loro che sono molto importanti allora turtonator è forse la roba migliore che abbiamo il problema è che siccome è turtonator non fa abbastanza danni per poi killare di rapid spin a togliere le stealth a merda ci hanno scopato merda 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 si armor cannon ma prendi troppi danni lui di explosion non è che fa se io vado a meno uno se io vado a meno uno con un po' di roll di explosion alternativamente c'è qua 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 ma qua qua io non credo che possa vederla kill no outspeed che è il lato positivo ma qua qua non killa mai knock off non cambia niente ah di te ha turtonator il problema il problema è che se invece lui attacca anziché mettere le stealth eh punto a capo grazie west side per il 23esimo mese benvenuto è veramente fastidiosa sta cosa via jolly quindi insieme non basta non serve comunque è bastato raga mette le stealth sto cercando un modo per non fargli mettere le stealth forza jelly sand cosa fa per togliere le stealth ho quello che potremmo fare forse è è guaranteed due hit che io non non è vero sabato side wave perché è così poco tanto perché forse dove fare no ah perché ce l'ho segnato double allora quello che potremmo fare è sabato sfocus hash fermi fermi forse ce l'ho sabato di di mi sta venendo il dubbio che sabato non prende i 2 forse non lo sono inventato ah no lo prende fa 90 porco dio ma perché fa 90 io me la ricordavo allora no vabbè scusami thunderbolt non basta 47 porco dio che palle allora non va bene va più boltbick oh raga boltbick l'ho calcolato prima fai 49 49 dirò il minimo vuol dire che c'è una percentuale assurda il problema che sabdos è troppo importante tu sei con armor cannon non va no eh raga non ce la fate no l'ho spiegato già non so cosa dire sabdos per pochissimo non ce la fa essere garantito ovviamente se poi dopo metagross switchasse sarebbe un problema ma potremmo comunque saccare ragioniamo gli altri ragioniamo gli altri allora non l'avevo visto c'è tauros cheerforce grande mar wakalola so che lo sto portando un po' ovunque probabilmente contro tauros si potrebbe anche evitare tipo potresti portare già l'esempio non è non è subito ragazzi si ce li ho ma sabdos deve avere la focus esce perchè lui ha explosion allora minchia anche quel pin sir mega porco due cazzo di animale porco dio anche sabdos secondo me prende lol sabdos andrebbe bene qua però in realtà no prenderà troppi danni vero no non kill però porco dio sarebbe anche ok però questa è piuttosto stiamo di ragionare quelli più semplici tipo forse Tinkaton sul Pangoro è ok oddio ma più o meno il Rain Punch prende una fucilata mai vista fanculo perchè è così difficile questa ok questa è proprio difficile ragazzi questa è tosta tosta fungo su Pangorvin è one shot lato probabilmente da Wicked blow o qualcosa del genere tutto over it mod non so se ho disposizione over it però merda questo è forte forte ragazzi questo è forte forte la trovo in via vittoria sì ma a che punto allora Jelly Sand su Tauros ti rendi conto che questo qua è un team assassino poi vabbè per esempio può addirittura giocare di gigatrain probabilmente recuperare vietà Zorro che mi va al sabato se per la parte 520 la cpu sa che ha illusion quindi sa che Zorro che è Zorro quante volte l'avrò detto secondo voi chat tipo 80 probabilmente scusa è entrato adesso lo so fa comunque ridere perché Espeon con Fieridense e Stored Power Interessante Fieridense Stavo pensando anche io Turtonator per Pangoro con Battle Armor il punto che sono comunque danni mai visti a questo punto sono danni che tu non gli rendi cioè non gli fai out damaging lui ti fa di più sempre suppongo che qua 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 va su Pangor non sia male è un po' azzardato però sì ma in realtà no perché di Drain Punch questo fa un danno mai visto porco dio dei danni disperati a maggior ragione non puoi giocare queste fights sotto Trick Room cioè sotto Stealth Rock ma come cazzo fa Zapdos a non prendere la kill di Air Slash che ha 125 di attacco fisico di attacco speciale come cazzo fa a non prendere la kill questo ha 90 65 il Slash ma porco due il problema è che è più veloce io dovevo fare cioè Scarf adesso vi calcolo la mongoose su Pangor così la smettete vedete che Wicked Blow gli fa 70% bene basta 80% dirò il massimo e starmi raga porco dio e starmi raga porco dio scusami scusami io sto calcolando su credo che basti quasi non basta dove c'è lui ha quelle otto volante non prende power jam vero wait ma Thunderbolt scusami un attimo ma lui è ah lui è volante Thunderbolt basta easy Zapdos è su Rilate coglione scusatemi sto fatto Zapdos su Pinsir e questo vuol dire che però su Metacross devo inventarmi qualcos'altro fammi ricalcolare Turtonator oh questa è lotta 3 quindi questo qua è presto in via vittoria eh fatemi fare anche sta roba qua un attimo items figa è piccolissimo over it si ottiene vittoria Walter Florin non ho questo parocchi non ho questo qua è oltre l'allenatore si stai dicendo cazzate adesso perché porco dio non è il problema cioè tu non ti stai focalizzando sul problema il problema è che questo mette le steltroke questo lo sciottiamo in 58 niente allora seguite bene quello che sto dicendo per favore questo questo mette le steltroke se lo vogliamo sciottare e basta abbiamo 800 modi non è il problema di sciottarlo il problema è non giocare questa fight sotto le steltroke perché se giochiamo questa fight sotto le steltroke per qualsiasi ragione Sabdos va in difficoltà e Sabdos è un po' come una lega quindi andiamo al laboratorio a scegliere lo starter svegliamoci non dobbiamo killare metagross dobbiamo killare metagross e non fargli tirare le steltroke perché altrimenti come dicevo un filosofo se noi vogliamo killare metagross ma il nostro obiettivo è un altro è come cercare di combattere la mafia con il gay pride diceva il saggio o mi sbaglio è un altro Grazie Nikoxis per il Prime, benvenuto E' inutile che io qui gioco Turtonator Focus Hash Perché se Turtonator prende dei troppi danni, non outspeeda Poi non riesce a toglierle Stealth Rock Taunt è bannata, parte 200 Merda, merda Qua qua non ha proprio nessun modo per fare due hit che io ho Zero, neanche mezzo Che tu mi stai dicendo che di Close Combat non fa 50% Ovviamente con la 6 dovrebbe essere Meglio di Acrobatics non c'ho niente Però, 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 a parte l'Uki Forse No, uguali una 120 Però, 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 però Ho visto che non è abbastanza Quello che può succedere E che Quacoval va in range di torrent Non ci sono gli heavy boots per Subdos Sono dentro la mia vittoria Non so dove è una buona idea Comunque non vuoi giocare sotto Stealthrock Se io giocassi Quacoval sotto torrent Però non è detto che si attivi torrent Magari non esplode Cioè non è detto che si attivi Immagino che se fa una mossa diversa da Explosion Io possa fare Anchor A quel punto con Anchor io attiverei la roba E con un liquidation sotto torrent Non gliela faccio mai Che figlio di puttana Che figlio di puttana Immagino che Urshifu non prenda fake out Sarebbe un po' troppo forse Sarebbe un po' esagerato Dici magari evitiamo di renderlo ancora più forte No non è che fake out più mossa di Insi non basta ragazzi È che niente È che lui ha un speed Mette le Stealthrock Quindi poi dopo giochiamo sotto Stealthrock Sarebbe un po' esagerato Tinga fake out e foul play A parte che non si no la prende foul play A parte che non si no la prende foul play Marco Dio Più speed di Insi ma da grossi direi di sì Stalotta ragazzi è un inferno Sa che dobbiamo giocarla sotto Stealth Poco al nemmeno attaccando specialmente Perché in realtà La TheGamer come faccio a farlo ciò Cioè ma poi quello starmi E come lo gestisco Che parla a piacere Immagino Snorlax Non è che vengono molte altre soluzioni Se c'è psyshock No blim ma torrent si può anche attivare Che semplicemente non basta torrent Cioè il discorso è proprio un'altra Non basta Non è sufficiente Cioè non basta chillare proprio Quindi è irrilevante questo discorso Fa un culo Planna quelle sopra Planna l'otto due Che match up Delfogs non ospita metagross Niente raga Non c'è verso mi dispiace Non ce la faccio a farmi capire Sì Ma metagross ha una sesh Quindi non possiamo mai shottarlo Io ci provo ma evidentemente non mi so spiegare Questo Sembra un altro simpatico Ti direi Shed the tail di Cyclizzer Immagino che Cyclizzer come caratteristica Abbia quella di essere molto veloce Almeno non è violita Sì come caratteristica quella di essere molto veloce Suppongo di poterlo outspeedare con un Pokémon Scarf Qualsiasi no? Tipo qua qua il Scarf Ah bello gli è andato a Regenerator Close combat Tipo sempre Killardo Il problema è che logicamente se lui switcha Tutto devi farlo per forza Guarda Giacomo quello che è consigliato è un po' un suicidio Però va bene Allora la cosa che mi spavento un po' è che se il Clizzer possa switchare Il problema è che se poi switch e fa Shed the tail è un po' un casino Cioè rischia di essere un casino No su Flygon credo che sia Wolverine no? Certo che porco io Vabbè però non siamo For coat For coat prendiamo massimo 28 E se lui va più Prendiamo massimo 42 Anche meno per ricare la Axed Più Ice Beam Sì Allora Wolverine sicuro Se è effettibile spostare il salto su Meta O smettendo in range garantita di Kid Explosion E Dardy Reflect Non è una buona idea Si direi Però vediamo Adesso pensiamo a staff light qua Steamer option Flamethrower Slash bomb e earth power Water absorb Sì stavo pensando anch'io a Jellicent Ma water absorb è un problema Ehm Vediamo cosa è la cava Jellicent Perché in realtà magari Ho cursato Krobat che ha Anricane Heat Wave E Giga Drain Come lo voglio Tink avrebbe un tempo ma Poi si fa Heat Wave A Dugong Ci ho pensato anch'io Spavento un po' Dugong Perché Confusion Di Hurricane Che so che arriva sempre In teoria però Lui cos'ha con un'altra mossa Nasty plot Eccoci qua No scusatemi Dugong e Ice Scales Probabilmente Dugong Persim Una buona Soluzione Credo che Ice Beam Più Ice Shard Dai kill No Vorrei essere tipo Guardate Vai Inner Focus No sniper Quindi tipo Fake Out Più Ice Beam Più Ice Shard Devrebbe essere ok Certo Lui potrebbe Romperti il cazzo Ma Grazie per Krobat Sì anche Forse Forse più safe Più che altro Perché Sì oddio Non fa danni Clos Grazie Solid Twitch Vedi il diciannovesimo mese Allora Sì Diciamo che Su Krobat Dugong è la soluzione Più Migliore Perché comunque Prende due hit E prima o poi Kill Akrobat Meno che lui Non faccia Giga Drain A quel punto Sarebbe un po' Rognoso Su Kingler Su Kingler Probabilmente Li fa ancora meglio Già le 69 Si becca giusto 21-25 E tu hai Recorder Immagino che Su Kingler Sia ottimo In che Ma in caso Uber Non è male Lo Slowbro Avrebbe un po' La rogna Che entrerè Sì ma Entra Che è tranquillo Poi non so Come lo attacchi A essere onesto Perché questo qua È anche acciaio Banalmente Con body Press Immagino Che possa essere Un'idea 8703 Sì ok Slowbro qui Potenzialmente Jelly Sand Su Volcanion Con Leftovers Dovrebbe essere Più o meno Tranquillo Bisogna capire Se Jelly Sand Riesce a fare Danni a Volcanion Cioè Più danni Di quanti Ne faccia Lui Intendo Però Boh Shadow 24 29 Lui fa 21 23 Hai Tu hai Recover Che lui non ha Diciamo che Rischi solo Se lui switch Più tu puoi giocare Leftovers Lui non ce li ha Linea teorica Jelly Sand Tranquillo Sarebbe Flash Super efficace Eh uguale Shadow Ball Se Su Flygon Abbiamo detto Wall Rain Intanto segna Wall Rain Slowbro Sapdos E Jelly Sand Subdos Per No scusatemi Subdos Non è dentro Scusatemi My bed Subdos Era la fight Di prima Credo di Dover Trovare Un opening Su Cycle Sar Ok Credo di Trovare Un'apertura Su Cycle Sar Che Non lo Fa switch Ciara Va bene Le run 6 Ci sta Bravo Però Com'ora Non è Importante Il Pokémon Avanti Al quale Sta Merda Di Gioco Non Switch Mai E Dodrio Questa È la Verità Vera Ma Non Credo Che Dodrio Headlong Rush Riesca A Killare Cioè Andrebbe Vicino Ma Tu Ovviamente Devi Essere Choice Scarf Quindi L'altro Positivo Di Dodrio Sarebbe Stato Che Oddio In realtà Potrebbe Switchare Su Flygon Su Water Link Che C'era Boh Tipo Se mi Date Un Attimo Vediamo Ma Tinkatone Buono Ad E E E Sì Ho Modo Di Shotarlo Che Poi Switch Modi Di Shotarlo Probabilmente Nehanno Anche Più Di Uno Ma Se Switch Non Siamo Punto A Capo Immagino Che Taurus Choice Scarf Più Ice B Non Basti Vero Quacoval Ce la farebbe Il problema Che Che Su Qua Possono Switchare Un po' Complesso Potrebbero Rientrare Di Hatterins Il gioco Close Combat Ice Spinner Senza La Choice Band Potrebbe Essere Un bel Po Rognoso Solid Twitch Dobbiamo Planare Un allenatore Una volta Come tutti Ma se Li planiamo Tutti Assieme Sappiamo Quali Possiamo Sacrificare Prima E Quali Dopo Molto semplice I Play Raff Per Taurus Non Giocarlo Fisico Allora Se Play Raff Basta Perché Anche Play Raff Potenziata Share Forst Onroll Il dramma È che Boh Sì Se lui Switch C'è Niente Su Atterin Probabilmente È Tinkaton Sembra Se lui Fa Mystical Fire Minchia Che danno Che prendi La Mystical Fire Non me la so Giocando Altre Rove No Vabbè Di Gigaton Killi Sempre No Sì Non penso Che ci sia Niente Di meglio Di Marwak Orko Duel Controller Marwak Prende Psyshock Eh Sì No Tinkaton È Meglio Tinkaton Quattro Diciamo che Su Crobat È Dugong No Lo so Scusatemi Se la mia Pancia Prontola No Croats Crosaire Avrebbe Ana Wear Però Non ha Trold Non fa Abbastanza Danni C'è La roba Migliore Che Ha E Rock Slide Stonehenge Missan Tenendo A te La roba Migliore Che Avrebbe Tutta E Non Prende Pochissimo Ti Arrigain Probabilmente È Sempre Dugong Qua Pochi Cazzo Raga Dai Dugong È Inrealistico Che non Riesca A fare Uno Vi Uno Dai Vediamoci Chiaro Anche banalmente Doppio Ice beam Senza fare Tutto il giro Che dicevamo Avremo Un piano B Cerca Però Dugong È Troppo Ok Gagana Assultwest Non ce la fa Cioè L'assultwest Da un'altra parte Siamo più safe Con un altro Pokémon Quindi Non credo più senso Senti Devo trovare Una lead Che Che fa Capi Quel Se Cleezer Dai E che Non lo faccia Switchare Forza Quali sono I Pokémon Che possono Killare Sicuramente Qua Aquaval Forse Dread No La Scarf Joe Loc Stong Joe Credo Tauros Intanto Le valoro Tauros Io notavo Un sacco Di Pog Un Kilo Non Sei Cleezer Urshifu 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 Ti porti Urshifu Bro Che avresti Wicked Blow Per Hatterin Che penso Faccia bene Prova a calcolarlo Prova Saresti Choice Scarf Logicamente Pro Speed Le 6 Glaser Close In teoria Non entra Mai Specie Se sei tipo Adamant Questo Non entra Mai Quest'altro Non entra Mai Attening Non entra Mai Kingler Non entra Mai In linea Urshifu Urshifu Con questa Combo È ok Con Giornlocco Non blocca in campo Che si fa Shattail Nope Ma il problema Non è bloccarlo In campo Il problema È se switch E poi rientra E fa Shattail Quando in campo Un altro Pokémon Pur vero Che posso Romperglielo Lui Non è molto Non fa Grandi danni Quindi è Realistico Crede No Shattail Non passi Troppo delle stazze Taurus A qualche modo Invece Per essere Una goal Più economica Più economica E spendibile Su Quando Anche Taurus Non riesce a killare Taurus Non riusciva Neanche a killare Fuori dal cazzo Dreadnought Dreadnought Avrebbe Non so neanche Se ho Spine Non è mai Sopra Wow Non è mai Sopra C'è S-I-Klisar Dreadnought È sotto Di due Rispetto A S-I-Klisar Credo Alla lotta Di portare Un Shifu In lead Raga S-I-Klisar 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 Dovrebbe lasciarsi Killar S-I-Klisar S-I-Klisar Dovrebbe lasciarsi killara Penso che farò Un Shifu Ok l'ultima Cioè che poi Vabbè La prima Topolini In lotta Uno Vabbè Shedinja Viene annullato Da Zoro Al che direi Certo Vabbè Chi vuoi lo viss Ma sei speciale Mausold È più o meno Il discordo Simile all'altro Tizio Ma immagino Di poter Anche Tecnician Gli è andato Qualcun Al più speed Close combat Liquidation High spin Fa la stessa cosa Dio ci Su S-I-Klisar Che è interessante Sicuramente Mega slow bro Per Veluzas Corretto Col corretta Filetta Voi mi ricordate Che cazzo Faceva Lo sfilettamento No Non si è arrivato A vederlo Io tranquillo User Di boost Attack Special speed Made by housing It's own HP Bellissimo Bravo Complimenti Sopro Primo fight Che è quello Che adesso Facciamo In teoria Prima capiamo Un po' L'Otta3 Vabbè Vabbè Già Tecnician Di base Ah Già Tecnician Di base Che pokemon Equilibrato Dancrato Sì Marowak Su Galvantula Giusto Marowak Fottuto Blasefalo Il matto In culo Insino Quando è Che non Stravince Insi Assault Vesto Sì Absol Allora Il bro Dovrebbe essere Tincatonabile Più o meno In realtà Nice Beh oddio Sì Dai Cazzo È Tincatonabile Tutta la vita Quanto ha De speed 115 Gigaton Non lo shot Rischi Giusto Dei crit Vado un attimo In bagno Però Questa È giusto Lotta3 Che abbiamo Un matchup Disgustoso Arrivo Aspetta Prendo le cifatte Un matchup What? Un matchup Grazie a tutti. 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 Buone call su tutti. Grazie a 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 tutti. In generale è un animale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dodrio è un... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora... Grazie a tutti. C'è... Grazie a tutti. non entra. e muore. No... Il punto è... su... ma... su... 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 5... su... 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 dodrio... voi... su... 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 ... su... 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 ... su... 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 ... su... 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 ... su... su...